Ciao ragazze, eccomi tornate in un nuovo video. Oggi ho pensato di proporvi la mia pamper routine aggiornata. Voglio mostrarvi tutti i prodotti che sto utilizzando in questo periodo, in queste ultime settimane. Insomma, come mi prendo cura del mio corpo. Innanzitutto, quando ho un attimo di tempo, mi piace fare un bel bagno caldo. Questo solitamente accade di più nel weekend, però quando ho un paio di ore a libera la sera, mi rilasso sicuramente con un bellissimo bagno caldo. Una delle prime cose che vado a fare prima di entrare nella vasca è quella di pettinare i miei capelli e andare ad applicare questa maschera di Hello Body al cocco, profuma tantissimo di cocco. La vado ad applicare sulle lunghezze in modo abbastanza abbondante e poi la lascio agire per circa un paio d'ore. Insomma, mentre mi faccio il bagno, lascio agire questa maschera e lascio i capelli veramente molto molto morbidi. La sto utilizzando ormai da un mesetto e mezzo ed è veramente fantastica. Poi inizio a riempire la mia vasca da bagno e utilizzo una Bat Bomb, questa che ho realizzato insieme a voi, che se ancora non avete visto questo video ve lo lascio qua sopra nelle schede. E poi aggiungo un po' di bagnoschiuma di Sephora, che era uscita in edizione limitata per il periodo natalizio. E poi vado ad utilizzare anche questo Similecca Lecca, che ha un po' la funzione delle Bat Bomb, ovvero colora l'acqua della vasca e in più la profuma, e profuma tantissimo di caramella. Una volta che la vasca si è riempita completamente, finalmente posso immergermi. Fare il bagno nella vasca non è una cosa in realtà che faccio molto spesso, perché comunque, come vi dicevo prima, serve del tempo. Quando sono di fretta preferisco fare una doccia che è sicuramente molto più veloce. Però al sabato, o comunque quando ho un po' più di tempo, mi piace sicuramente rilassarmi nella vasca e farmi un bellissimo bagno caldo. Vado a lavarmi il viso utilizzando lo stesso bagnoschiuma che ho messo nella vasca. E poi vado ad applicare questo scrub che ho realizzato nel video sull'utilizzo dell'olio di cocco che magari anche questo vi lascio qui nelle schede. Lo vado ad applicare specialmente sulle gambe e sulle braccia. E mentre mi rilasso nella vasca mi piace o leggere un buon libro, questo l'ho iniziato da poco, oppure bermi anche una tazza di tè caldo. È sicuramente una cosa piacevolissima. Terminato il bagno vado sempre a mettere una crema idratante, un olio profumato. In questo caso ho deciso di utilizzare questo di Sephora. Anche questo era uscito con l'edizione limitata di Natale. È un olio che profuma di fiori di cotone e lascia sulla pelle dei leggeri glitter. Terminato il bagno vado a lavarmi i capelli e una volta lavati vado ad applicare sui capelli questa mousse volumizzante della Adorn che mi lascia appunto i capelli molto più voluminosi. E poi ovviamente li asciugo con il phon. Passo poi allo struccaggio ed utilizzo questa nuvola struccante di Neve Cosmetics. La vado ad applicare prima su tutto il viso e come vedete si forma questa leggera schiumetta e va a togliere il fondotinta in maniera pazzesca. E poi passo agli occhi e anche qua va a rimuovere qualsiasi residuo di make-up. Vado poi a rimuovere i punti neri utilizzando queste striscette che ho acquistato su un sito coreano. Parto dal primo step e vado ad applicare la prima striscia che deve stare in posa per circa 15-20 minuti. Poi passo al secondo step e il secondo step serve per andare a rimuovere tutti i punti neri. E devo dire che questo prodotto non mi dispiace, non fa miracoli, però comunque va a eliminare diversi punti neri. Anche questo deve stare in posa per un po' di tempo, circa 10-15 minuti. Passo poi al terzo step. Questo passaggio serve per rendere il naso molto più morbido. Poi utilizzo questa maschera di Skin Food, questa è una maschera all'albume d'uovo. L'applico su tutto il viso, questa la utilizzo molto spesso, devo dire, almeno un paio di volte a settimana. E anche questa serve per diminuire i pori, quindi l'applico su tutto tutto il viso. La tengo in posa anche questa per circa una ventina di minuti, insomma, finché la maschera non si è asciugata perfettamente. E poi vado a risciacquare con dell'acqua tiepida. Terminati tutti questi passaggi, ovviamente vado ad applicare sul viso una crema da notte. E poi passo ai denti. Sto utilizzando questo prodotto da circa un paio di settimane. Non la utilizzo tutti i giorni, lo utilizzo due o tre volte a settimana. Come potete vedere è una polverina che vado ad applicare sui denti, come se fosse un vero e proprio dentifricio. E poi con l'aiuto di questo spazzolino vado semplicemente a lavare i miei denti. Il risultato mi è piaciuto veramente tanto. Non lo sto utilizzando da tantissimo tempo e non lo utilizzo tutti i giorni, però già subito dopo il primo utilizzo ho visto dei miglioramenti. Poi passo alle labbra e utilizzo questo labbra cadabra della Lush. È uno scrub da applicare sulle labbra, me lo rende molto più morbida. E poi il profumo di questo scrub è veramente la fine del mondo. Finisco di asciugare i capelli e poi sono pronta per andare in camera da letto. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemelo sapere con un bel like. Iscrivetevi se ancora non siete iscritte per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo prestissimo. Ciao!